Umità del cuore di padre Cayetan Maria da Bergamo dall'inglese tradotto liberamente in italiano Continuazione Quattordicesima parte Pensieri e sentimenti sull'umità I misteri della grazia e della predestinazione non sarebbero più misteri se fossimo capaci di coglierli con la nostra intelligenza Soffermarsi a considerare se Dio ha perdonato i nostri peccati o no e se stiamo vivendo in uno stato di grazia o se siamo predestinati eccetera è di per sé un atto di temerarietà e di superbia in quanto cerchiamo di sapere i giudizi nascosti di Dio che non vuole che li conosciamo affinché rimaniamo umili Non essere superbo ma temi dice San Paolo Devo essere molto grato a chi mi aiuta a restare nell'umiltà sottoponendomi alle umiliazioni tramite le parole e opere perché colui che mi aiuta a rimanere umile sta cooperando con la Divina Misericordia affinché avviene l'opera di Dio che è quella di salvare la mia anima e benché la persona non pensa alla mia salvezza quando mi offende ne è tuttavia strumento e tutto il male viene da me se non ne faccio buon uso San D'Ambrosio dice di Davide quando fu insultato che taceva e si umiliava tenendo la mente fissa su questo pensiero il Signore gli ha ordinato di maledirmi vide allora un'opera del Signore che utilizzò una persona per umiliarlo siamo grati a questo chirurgo che ci fa sanguinare se dunque lo comprendiamo non da filosofi stoici ma da buoni cristiani dovremmo essere grati a coloro che ci umiliano perché sebbene non abbiano intenzioni di renderci umili ma hanno solo l'intenzione di umiliarci tuttavia in realtà queste umiliazioni ci acquista l'umiltà se desideriamo essere umili il beneficio è un beneficio reale anche se chi lo conferisce non ha intenzione che lo sia un insulto è solo un insulto nell'intenzione dell'uomo che dà l'insulto ci insulta e l'umiliazione appartiene a chi lo riceve ed è un mezzo sicurissimo per acquistare e praticare l'umiltà se lo si sa accogliere con spirito cristiano a tal fine Dio ci permette di essere umiliati a volte per dare prova della nostra virtù come leggiamo nella fornace dell'umiliazione il maestro continua in questa saggia regola proseguendo dicendo umilia il tuo cuore e persevera tutto dipende dal modo in cui prendiamo le cose la nostra vita regolare secondo le massime del mondo è certo di ispirare orgoglio ed è altrettanto certo che governarci invece secondo le massime del Vangelo ispirerà umiltà secondo il mondo dovremmo respingere un insulto con rabbia con risentimento ma secondo il Vangelo dovremmo accettarlo con pazienza umiltà prudenza essere miti questo detto è difficile ma quanta pazienza non eserciziamo per compiacere il mondo pazienza spesso amare è dura e sarà dunque duro dire che dobbiamo avere pazienza e umiltà per piacere a Dio ah misera anima mia occupiamoci delle cose di questo mondo dei pensieri delle idee degli scrupoli di questo mondo dei suoi obblighi e opinioni della sua politica degli amori dei capricci so bene che l'umiltà non può essere laboriosa e faticosa in un simile clima così pieno di mondanità perché come dice la sacra scrittura l'umiltà è un abominio per i superbi ma iniziamoci di sopra del mondo e delle sue opinioni e alla luce dell'eterna verità della fede troveremo che questa virtù non solo è facile ma dolce e gradita perché tutto ciò che Cristo ci ha detto è vero e dopo averci esortati ad imparare da Lui l'umiltà imparate da me perché sono umite e umile di cuore soggiunse subito perché mio gioco è dolce e mio carico leggero la verità non può mentire siamo noi che ci rifiutiamo di ascoltarlo siamo governati dal mondo e quindi sentire parlare di umiltà è un duro detto ma ricordiamoci che si tratta di un vero detto perché se non siamo umili non possiamo essere salvati grande regno a cui aspiriamo dice Sant'Agostino ma l'umiltà è la via che vi conduce a quel grande regno excelsa est patria humilis est via a che serve la nostra nostalgie del paradiso se non cammineremo sulla via dell'umiltà che è l'unica via che ci conduce nel paradiso parte 15 pensieri e sentimenti sull'umiltà quando considero le parole che Gesù Cristo rivolse in preghiera al Padre suo celeste dicendo che non pregava per il mondo io non prego per il mondo leggiamo in Giovanni e ancora che quando pregava per i suoi discepoli affinché la sua preghiera fosse più efficace ha sottolineato il fatto che non erano seguaci del mondo sono nel mondo ma non sono del mondo ammetto che nessuna parola del nostro Salvatore in tutto il Vangelo mi terrorizza più di queste sento infatti che è necessario che io mi separi dal mondo affinché Gesù Cristo interceda per me e se sono un amante del mondo sarò scomunicato da Gesù Cristo e non avrò parte alle sue intercessioni e preghiere queste sono le parole di Cristo stesso che dice non prego per il mondo ma per coloro che non sono del mondo comprendiamo bene queste parole che Gesù Cristo ci esclude dal suo regno se apparteniamo al mondo cioè se vogliamo seguire le massime del mondo che altro non sono che vanità e inganno e riempiono di superbia l'uomo le massime del mondo che profeta dice svia la via degli umili intanto Gesù Cristo è il nostro avvocato presso il Padre in quanto rinnovando il nostro voto battesimale rinunciamo al mondo e accettiamo le massime del Vangelo che sono vere e tendono a rendere umile l'uomo servire sia Dio che il mondo è impossibile perché non potremo mai compiacere entrambi una persona si aggrapperà l'uno e disprezzerà l'altro leggiamo in Luca pretendere di servire Dio e il mondo è lo stesso che immaginare di poter essere umili e orgogliosi allo stesso tempo sogno vano la meditazione più familiare al Serafico San Francesco era questa che prima elevava i suoi pensieri a Dio e poi li rivolgeva a sé Dio mio esclamava chi sei tu e chi sono io ed elevando per prima il suo pensiero verso la grandezza e all'infinita bontà di Dio scende poi a considerare la propria miseria e vita e così salendo e discendendo questa scala di pensiero della grandezza di Dio fino a proprio nulla il Serafico il Serafico santo trascorreva intere notti in meditazione praticando in questo esercizio una vera vera sublime profonda umiltà come gli angeli visti da Giacobbe nel sonno che vide quella scala di perfezione mistica salendo e scendendo da questa scala questo questo dovrebbe essere il nostro modello affinché non sbagliamo nell'esercizio dell'umiltà fissare i nostri pensieri unicamente sulla nostra miseria potrebbe farci cadere nella diffidenza e nella disperazione allo stesso modo fissare i nostri pensieri unicamente sulla contemplazione della divina bontà potrebbe farci diventare presuntuosi temerari la vera umiltà sta tra le due l'umiltà dice Santo Maso frena la presunzione e fortifica l'anima contro la disperazione diffida di te stesso e confida in Dio e così diffidando e così confidando tra timore e speranza opererai la tua salvezza nello spirito del Vangelo dovremmo prima riflettere sull'infinita misericordia di Dio per suscitare la nostra speranza come fece Re Davide la tua misericordia davanti ai miei occhi e poi dovremmo riflettere sulla sua giustizia in modo da mantenerci nel timore di essa O Signore mi ricorderò solo della tua giustizia leggiamo nei salmi e anche rivolgendo il pensiero a noi stessi dovremo prima riflettere sull'uomo come opera di Dio creata sua immagine e sua omiglianza per dare a Dio la gloria allora dovremo poi riflettere sul peccato dell'uomo l'uomo peccatore l'uomo è peccato dice Sant'Agostino sono come due cose distinte quali sapori dell'uomo ha fatto Dio quali sapori del peccatore ha fatto l'uomo stesso distruggi ciò che l'uomo ha fatto affinché Dio salvi ciò che ha fatto lui la conoscenza di sé è un grande aiuto per acquisire l'umiltà ma in mezzo alle tante passioni colpe e vizi di cui siamo consapevoli riconoscere il proprio orgoglio è più utile di tutti perché questo vizio è più vergognoso di tutti e anche nelle nostre confessioni ci è più difficile dire con verità mi accuso di essere orgoglioso e di non tentare seriamente di correggere questa colpa che accusarci di molti altri peccati questa conoscenza del nostro orgoglio è molto umiliante perché dove certi altri vizi possono essere compatiti e scusati per una ragione o per l'altra l'orgoglio non può mai essere compatito e scusato essendo un peccato che è diabolico che è odioso non solo a Dio ma anche agli uomini come dice la parola ispirata l'orgoglio è odioso davanti a Dio e agli uomini esaminiamoci dunque quotidianamente su questo punto accusiamocene nelle nostre confessioni riconoscendo il nostro orgoglio questo è già un primo buon passo verso l'umiltà preghiamo Gesù Cristo che faccia per noi come ha fatto per il cieco che ha guidato chiediamogli di mettere il fango della superbia sui nostri occhi in modo che ci ritorna la vista e possiamo vedere diciamo a Dio tu sei mio Dio quel Dio che solleva i bisognosi dalla terra che solleva i poveri dall'età maio concedi che questo orgoglio che è mio grande peccato possa per te servire come strumento mediante il quale io possa raggiungere una virtuosa umiltà riflettiamo sulle cose di questo mondo sulle cose alle quali siamo inclini a provare un vano di letto uno può vantarsi della sua robusta salute forza fisica un altro della scienza della conoscenza dell'eloquenza di altri doni che ha acquisito attraverso lo studio e l'arte un altro si vanta della sua ricchezza dei suoi possedimenti un altro della sua nobiltà del suo rango un altro sulle sue virtù umorali o altre virtù che gli recano grazia e perfezione spirituale ma tutti questi doni non devono essere considerati come tanti benefici provenienti da Dio dei quali dobbiamo rendere conto se non li usiamo per resistere alle tentazioni e a conformarci all'ordinazione di Dio siamo debitori a Dio per ogni beneficio che riceviamo e siamo tenuti a impiegare questi doni a commerciare con essi per la gloria di Dio come mercanti a cui è affidato il capitale quando consideriamo quanti benefici sia di corpo che di anima abbiamo ricevuto da Lui siamo costretti ad ammettere che tanti sono i debiti che abbiamo nei suoi confronti e perché dovremmo gloriarci dei nostri debiti nessun mercante prudente se ha grossi debiti andrebbe a proclamare il fatto sul mercato e quindi perderebbe il suo credito e come possiamo aspettarci di guadagnare credito vantandoci dei tanti debiti che abbiamo con Dio debiti così pesanti che corriamo il rischio di fallire quel giorno in cui il nostro Signore Maestro dirà paga ciò che devi dai benefici che riceviamo da Dio dovremmo imparare lezioni di umiltà piuttosto che di superbia seguendo l'insegnamento di San Gregorio quanto più l'uomo vede di dover rendere conto dei suoi doveri tanto più umile deve essere nelle loro prestazioni il nostro desiderio di vantarci dei favori che abbiamo ricevuto da Dio dimostra solo la nostra ingratitudine e abbiamo più motivo di umiliarci per essere ingrati che di gloriarci dei benefici così concessi a noi pensieri e sentimenti sull'umiltà sedicesima parte il vero motivo per cui Dio concede tante grazie agli umili e questo che gli umili sono fedeli a queste grazie e ne fanno buon uso li ricevono da Dio e li usano in modo a Dio gradito dandogli tutta la gloria senza riservarne alcuna per se stessi questo è come l'amministratore fedele che non si è proprio di nulla che appartenga al suo padrone e così merita quella lode ricompensa data al servo fedele di cui parla il Vangelo va bene servo buono e fedele perché sei stato fedele nel poco ti darò molto o anima mia come stai di fronte a questa fedeltà nei confronti di Dio non sei tu come quei servi e quali il loro padrone ogni giorno affida del denaro ora per comprare una cosa ora un'altra e che ogni volta tiene per sé una piccola moneta finché a poco a poco diventino servi infedeli e grandi ladroni allo stesso modo il nostro orgoglio ci rende servi infedeli quando ci attribuiamo quella lode che è dovuta solo a un dono che ci è affidato da Dio e che dovrebbe essere attribuito a Lui senza riserve oh Signore tu vedi tutti i miei furti sono sopraffatto dallo stupore che tu ti fidi ancora di me vista la mia infedeltà non sono degno della più piccola grazia ma rendimi umile e anch'io sarò fedele è certamente vero che chi è umile è anche fedele a Dio perché l'umile è giusto anche nel dare a tutto ciò che gli è dovuto e soprattutto nel rendere a Dio ciò che è di Dio cioè nel dargli gloria per tutto il bene che è tutto il bene che ha e per tutto il bene che fa come dice il venerabile Beda tutto ciò che di buono vediamo in noi stessi lo attribuiamo a Dio e non a noi stessi rendere grazie a Dio per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere un ottimo mezzo per esercitare l'umiltà perché nel rendimento di grazie impariamo a riconoscere il supremo datore di ogni bene e per questo c'è sempre necessario essere umili davanti a Dio San Paolo ci esorta a rendere grazie di tutto in ogni momento in ogni cosa rendete grazie leggiamo nella Sacra Scrittura rendendo sempre grazie per ogni cosa ma affinché il nostro rendimento di grazie sia un atto di umiltà non deve venire solo dalle labbra ma dal cuore con la ferma convinzione che ogni bene ci viene per l'infinita misericordia di Dio guarda un mendicante che ha ricevuto un dono considerevole da un uomo ricco con quale calore esprime la sua gratitudine si stupisce che il ricco si sia degnato di concedergli un dono protestando di non esserne degno e di riceverlo non per merito proprio ma per nobile bontà del donatore per il quale sarà sempre molto grato parla parla di cuore perché conosce la propria misera condizione di povertà e la benigna condicenza del ricco e i ringraziamenti che rendiamo a Dio dovrebbero essere inferiori ai ringraziamenti che vengono dati ad un uomo quando un uomo può così ringraziare un altro non dovremmo arrossire di vergogna che esistono uomini che sentono più umiltà di cuore verso i loro simili che verso di Dio oh mio Dio ti ringrazio con tutto il cuore per questi benefici che ho ricevuto per solo la tua bontà che non ho meritato e per i quali non ti ho mai ringraziato fino ad ora è per orgoglio che non ti ho reso grazie ed è per orgoglio che ho goduto di tutti i tuoi doni come se non li avessi ricevuti dalle tue mani detesto il mio orgoglio e con il tuo aiuto mi ricorderò di renderti grazie in ogni momento e per ogni cosa benedirò il Signore in ogni momento leggiamo nei salmi lodarti benedirti e ringraziarti per tutte le tue misericordie nei secoli dei secoli le misericordie del Signore io canterò in eterno l'importante è che il nostro cuore sia umile perché questo è ciò che Cristo cerca a noi sopra ogni cosa è utile riparare la cassa e le lancette di un orologio se non si regolano anche le ruote e i meccanismi e allo stesso modo è inutile che qualcuno sia modesto nell'abbigliamento e nel portamento se non c'è vera umiltà del cuore dobbiamo applicare a noi stessi i detti del nostro Salvatore fariseo cieco pulisci prima all'interno del calice e del piatto affinché l'esterno diventi puro e apprendiamo dall'insegnamento di Santo Maso che dalla nostra disposizione interiore di umiltà procedono segni in parole in atti in modalità con cui si manifesta ciò che è fuori ciò che è dentro ammetto la verità di ciò che tante volte è stato ripetuto nelle sacre scritture che l'umiltà è un dono speciale di Dio e che nessuno può possederla da sé se Dio non l'ha data ma al tribunale di Dio non ci sarà scusa per non avere posseduto l'umiltà perché ci è stato insegnato che potevamo ottenerlo con la preghiera perseverante e se non abbiamo usato questo mezzo per ottenerlo sarà colpa nostra se non l'abbiamo chiesto a Dio e quindi colpa nostra se non l'abbiamo ottenuto il nostro salvatore nel suo vangelo dice chiedete vi sarà dato se vuoi qualcosa da me chiedi e sarà esaudito e questa virtù può costarci meno della semplice fatica di chiederla a Dio con grande insistenza perciò non cessiamo di chiederlo e per il modo stesso di ottenere i nostri cuori i nostri sguardi le nostre parole i nostri movimenti il nostro portamento e anche i nostri stessi pensieri saranno tutti umili poiché dal cuore escono i pensieri spesso ci lamentiamo di non potere pregare a causa delle tante distrazioni che ostacolano il raccoglimento e inaridiscono la sorgente della devozione del nostro cuore ma in questo sbagliamo e non sappiamo ciò che diciamo la migliore preghiera non è quella in cui siamo più raccolti e ferventi ma quella in cui siamo più umili perché sta scritto la preghiera di chi si umilia trafiggerà le nuvole e quali distrazioni della mente e del cuore possono impedirci di esercitare l'umiltà è proprio in quei momenti in cui ci sentiamo irritabili tiepidi che dobbiamo mostrare la nostra umiltà e come dicendo oh signore non sono degno di restare qui a parlarti così confidenziale non merito la grazia della preghiera perché è un dono speciale che tu fai a coloro che ti sono cari mi basta essere il tuo servo scacciando le mie distrazioni come tante mosche perché le mosche non volano intorno all'acqua bollente ma solo intorno all'acqua tiepida e tutte queste distrazioni derivano dalla mia grande tiepidezza ah che preghiera eccellente così prego Giosuè e il signore ascoltò la sua preghiera leggiamo ti sei umiliato davanti a Dio io ti ho ascoltato dice il signore così prego anche il re Davide nell'angoscia della sua anima e fu liberato mi sono umiliato ed Egli mi ha liberato quanto più l'anima si esalta e si compiace della propria meditazione tanto più Dio si esalta di sopra di essa e se ne sta lontano l'uomo giungerà a un cuore profondo e Dio e Dio sarà esaltato desideriamo che Dio nella sua misericordia si avvicini a noi umiliamoci vuoi che Dio sia vicino a te dice Santo Agostino umiliati perché quanto più ti elevi tanto più Egli sarà di sopra di te molte persone quando si preparano alla confessione si angustiano perché non provano sufficiente contrizione per i loro peccati e per ottenerlo si battono il petto per cercare di eccitarsi a sentimenti di dolore ma questo è orgoglio perché ci fanno intendere che possono così ottenere la contrizione di se stessi desideri il vero dolore per i tuoi peccati siete dunque certi che questo è un dono singolare di Dio e che per ottenerlo non c'è mezzo migliore che umiliarsi davanti a Lui parte 17 pensieri e sentimenti sull'umiltà l'umiltà genera fiducia a Dio non rifiuta mai la sua grazia a coloro che si avvicinano a Lui con umiltà e fiducia di dunque a Dio io posso restare qui tutto il tempo che voglio e fare tutto ciò che posso per ottenere dolore dei miei peccati ma è impossibile per me raggiungerlo da me stesso se tu non me lo concedi o mio Dio io non lo merito ma Gesù Cristo lo hai meritato per me ed è per i suoi meriti che lo chiedo e per la tua infinita bontà che spero di ottenerlo mettiti in questa umile disposizione d'animo e sarai felice perché è scritto di Dio che egli consola gli umili e ha avuto riguardo la preghiera degli umili e non ha disprezzato la loro supplica questo dolore o contrizione per cui l'anima è santificata è una delle più grandi grazie che Dio possa darci sarebbe presunzione temerarietà e superbia da parte nostra pretendere questa grazia senza averla domandata con dovuta umiltà può sorgere nella nostra mente il dubbio che poiché per ottenere la grazia dell'umiltà dobbiamo chiederla a Dio e domandarla con umiltà se vogliamo che Dio ascolti la nostra preghiera come possiamo domandarla con umiltà poiché è proprio questa umiltà che non abbiamo e che chiediamo non perdiamoci in simili speculazioni inutili nella pratica poiché la semplicità di cuore è ciò che il Signore desidera da noi ci sono alcune virtù efficaci che Dio ha infuso nelle nostre anime nel Santo Battesimo indipendentemente dalle nostre disposizioni principalmente per infusione nel Battesimo dice Santo Maso tale per esempio è la fede tale è anche l'umiltà che ci è necessaria per credere e pregare come si deve esercitiamo dunque nelle nostre preghiere questa infusa umiltà e facendone buon uso acquisteremo col tempo quell'altra virtù evangelica che è necessaria alla nostra salvezza e che può essere ottenuta solo con la nostra stessa collaborazione la preghiera dice Sant'Agostino è essenzialmente la risorsa di colui che sa di essere sia povero come anche bisognoso la preghiera è solo per i bisognosi Orazio Orazio non est nisi indigentium riconosciamo e confessiamo la nostra povertà e indigenza davanti a Dio e con questa confessione eserciteremo l'umiltà i veramente i veramente poveri non hanno bisogno di essere insegnati a chiedere l'elemosina la necessità e la loro padrona e se l'uomo può umiliarsi davanti all'uomo perché non dovrebbe umiliarsi anche davanti a Dio se desideriamo discernere ciò che è di Dio e ciò che è nostro ci basta riflettere che rendendo a Dio tutto ciò che è suo nulla è lasciato a noi stessi se non è nulla per poter dire veramente con i profeta sono ridotto al nulla questo è un vero detto che tutto ciò che è in noi che è più del nulla appartiene a Dio e Lui può togliere ciò che è suo quando vuole senza farci alcun male quindi in che cosa possiamo vantarci dal momento che Dio può toglierci qualcosa nel momento in cui cominciamo a gloriarci di essa perché chi si gloria della sua ricchezza può presto diventare povero chi si gloria della sua salute può improvvisamente ammalarsi chi si gloria della sua conoscenza può improvvisamente diventare pazzo chi si gloria della sua santità può cadere improvvisamente in qualche grande peccato che vanità che foglie dunque gloriarci di ciò che non è nostro neppure il nostro potere di conservare che cosa hai che non hai ricevuto primo corrente questa sola riflessione dovrebbe bastare a renderci umili e si può dire che ogni vera umiltà dipende dal nostro perseverare seriamente in questo pensiero oh anima mia sarai umiliato quando come dice Dio per mezzo del profeta egli separerà il prezioso dal vive quindi l'essenza dell'umiltà consiste nel saper discernere rettamente ciò che è mio e ciò che appartiene a Dio tutto il bene che faccio viene da Dio nulla mi appartiene se non il mio proprio nulla che cosa ero nell'abisso dell'eternità un semplice niente cosa ho fatto di me stesso per uscire da quel nulla niente se Dio non mi avesse creato dove sarei nel nulla se Dio non mi ha sostenuto in ogni momento dove dovrei tornare nel nulla perciò è chiaro che di me stesso non possiedo altro che nulla anche nel mio essere morale non possiedo altro che la mia stessa malvagità quando faccio il male è tutta opera mia quando faccio il bene appartiene solo a Dio